Un saluto da Marco. Il peggioramento a carattere freddo ha raggiunto le regioni centrali e proseguirà la sua avanzata verso sud nelle prossime ore, soprattutto nella giornata di domani. Le precipitazioni, seppur non intense, assumeranno carattere nevoso a quote via via sempre più basse anche verso i 300 metri nell'Appenino centrale. Ma anche domani l'instabilità sarà la protagonista assoluta, con precipitazioni irregolari ed intermittenti in buona parte del centro-sud. Il tempo rimarrà incerto e molto rigido per parecchi giorni ancora, per l'arrivo di ripetuti impulsi molto freddi provenienti da est-nord-est. In Abruzzo precipitazioni che stanno interessando buona parte del territorio regionale, con nevicate che stanno raggiungendo quote via via sempre più basse, fino a toccare probabilmente la bassa collina a 200-300 metri in nottata. Anche domani il tempo rimarrà instabile, con nevicate possibili a quote collinari. La ventilazione sarà insistente di moderato o debole intensità dai quadranti nord-orientali ed il mare mosso. Le temperature minime di questa notte comprese tra meno 2 e 5 gradi e le massime di domani tra 0 e 7 gradi. L'appuntamento con il meteo è per domani mattina. Buona serata. Grazie a tutti.